Ha lasciato il carcere ed è tornato a casa il 53enne che lo scorso dicembre aggredì a Pozzo della Chiana la moglie di 48 anni a colpi di martello. All'uomo incensurato accusato di omicidio volontario aggravato dal legame familiare, il GIP del Tribunale di Arezzo Stefano Cascone ha concesso gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Sarà così controllato a distanza dall'abitazione teatro del drammatico episodio. La moglie 48enne invece si è trasferita in un altro alloggio. Era il 12 dicembre 2022 quando al culmine di una lite, probabilmente nata dalla decisione della moglie di separarsi, il 53enne afferrò un martello colpendo più volte la donna alla testa. La 48enne riuscì a mettersi in salvo scappando fuori ed urlando fu portata all'ospedale e le scotte di Siena venne rimessa circa un mese dopo. Il 53enne adesso attende il processo con rito immediato. La PM Laura Taddei ha chiuso l'inchiesta La difesa dell'uomo. Ha così 15 giorni di tempo per fare le valutazioni del caso e scegliere l'eventuale rito alternativo o quello abbreviato che riduce di un terzo la pena in caso di condanna.